E' giusto che oggi i tifosi pretendono di più e io sono il primo tifoso a pretendere di più, ma tre anni fa qualcuno si ricorda che a metà campionato la squadra non c'era più e la domenica il palazzetto era chiuso. Ecco, quindi le chiedo, al di là della classifica ad oggi 2 gennaio, rispetto alle aspettative che avevate in quella primavera-estate, oggi, aspettative deluse, aspettative soddisfatte? No, aspettative assolutamente soddisfatte. Se oggi siamo qua che parliamo di un campionato di A2, parliamo di non solo avere l'ambizione di mirare la salvezza, ma i tifosi giustamente vogliono qualcosa in più, significa che alla scommessa l'abbiamo vinta. Poi è chiaro che bisogna vincere anche le partite, che dopo ci fa stare più tranquilli. Da non legare la vita, la sopravvivenza di una società sportiva a una persona, a un'azienda o a un brand, significa cercare di dare continuità a quello che è una storia importante, come è la storia della palacanestra Forlì. Io non posso dimenticare che tanti anni fa ci siamo svegliati una mattina con il nostro titolo che era stato venduto a Sassari. Quello che abbiamo cercato di fare anche con la creazione della fondazione è proprio per evitare questo. Grazie a tutti.